Avvocato Fabrizio Speranza, lei è un esperto sul tema del gioco d'azzardo e oggi è stato ospite qui a Catanzaro dal Movimento Forense di Catanzaro. Ecco, quali sono le maggiori criticità in relazione a questo fenomeno? Intanto la ringrazio di questa opportunità di essere qui a Catanzaro e di poter dare un contributo da parte dello studio che rappresento. Noi come studio che si occupa di fornire consulenza a società che si occupano del settore ci preoccupiamo in maniera importante della compliance normativa che oggi a livello europeo è un fondamentale tassello per la lotta a ogni genere di irregolarità e di illegalità. Questo è una cosa fondamentale, quindi questo convegno al quale ho partecipato volentieri serve a polga apposta per informare e dare un contributo reale a quella che è l'assoluta necessità di compliance, a quelle che le leggi vigenti oggi sono e che sono sempre più chiare ed evidenti. Quindi, come posso dire, durante il convegno cercherò di dare un contributo anche ai colleghi dal punto di vista di uno studio internazionale che si occupa di queste materie.